Salve sono Walter Agner Meta Angel Investor di Accelera Hub e oggi vi parlo dello sviluppo delle auto elettriche nel mercato cinese. Il mercato delle auto elettriche in Cina continua a mostrare una crescita considerevole, registrando 13,6 milioni di immatricolazioni nel 2023, con un incremento del 34% rispetto all'anno precedente, e conquistando il 16% del mercato globale. Il governo cinese ha già raggiunto il suo obiettivo del 20% di quota di mercato per veicoli elettrici e plug-in con tre anni di anticipo, dimostrando l'ambizione e la rapidità della transizione energetica nel paese. Il tasso di adozione di veicoli elettrici in Cina evidenzia disparità regionali, con le megalopoli che superano il 40% di penetrazione, mentre nelle città più piccole questa percentuale si riduce significativamente. L'Europa segue come secondo mercato mondiale, con una crescita sostanziale ma inferiore rispetto alla Cina. Gli Stati Uniti e le regioni dell'Asia Pacifico mostrano un interesse variabile, con il Giappone e l'India che registrano quote di mercato relativamente basse. La leadership della Cina nel settore si riflette anche nella sua capacità di influenzare i mercati globali, con un'importante quota di veicoli elettrici venduti in Europa prodotti in Cina. Questa tendenza solleva preoccupazioni riguardo alla dipendenza europea dalle importazioni cinesi, che si prevede aumenteranno significativamente nei prossimi anni. Le case automobilistiche cinesi, come BYD, stanno guadagnando terreno rapidamente, non solo in Cina ma anche a livello globale, con veicoli che combinano tecnologia avanzata a prezzi competitivi. In questo contesto dinamico, la posizione della Cina come leader mondiale nella produzione e nel consumo di veicoli elettrici è indiscussa. La nazione asiatica non solo sta guidando la transizione verso una mobilità sostenibile ma sta anche plasmando l'evoluzione del mercato globale dei veicoli elettrici, sfidando i produttori tradizionali e accelerando l'adozione di nuove tecnologie nel comparto.